Buona domenica, benvenuti a Stanze Vaticane. Papa Francesco All'Angelus ha istituito la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ne ha parlato proprio ricordando il ruolo dei nonni e degli anziani e ciò che devono essere per i propri nipoti. E poi una settimana importante, celebrazioni per la giornata della memoria, per non dimenticare la Shoah, ne ha parlato anche Papa Francesco, tra poco ci arriveremo, saluto i nostri ospiti, Don Angel Fernandez Artime, rettor maggiore dei Salesiani, auguri perché oggi è la festa di San Giovanni Bosco, il fondatore dei Salesiani, grazie per aver accettato il nostro invito in questa giornata speciale. Grazie a voi, grazie. Grazie e saluto anche il professor Giovanni X, responsabile dell'archivio storico della Segretaria di Stato, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie, tra poco arriveremo da lei per un'importante pubblicazione che riguarda proprio il tema degli ebrei, tra poco ci arriviamo, ascoltiamo però intanto le parole di Papa Francesco pronunciate al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere e per questo ho deciso di istituire la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio. E' importante che i nonni incontrano i nipoti e i nipoti si incontrino con i nonni perché, come dice il profeta Joelle, i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno l'illusione. Allora queste le parole del Papa Don Ankel, quanto è importante oggi, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, istituire una giornata mondiale per i nonni e per gli anziani? Papa Francesco ne parla spesso. Io penso che personalmente lo ritengo come al solito molto opportuno nel senso che penso che Papa Francesco guarda di vedere quali sono le possibilità pastorali che vengono con la vita. Quando l'ho sentito questa mattina pensavo, la mia storia per esempio, personale è stata così, sono cresciuto con i genitori, però la nonna è stata per me una garanzia per esempio nell'annuncio della fede. Allora, quanto importante sia, io penso che tutto questo è sempre un aiuto per dare alle famiglie, tante volte colpite di tanta fragilità, questo sostegno che viene di tanti elementi, uno di questi è di apprezzare e valorizzare di più nella nostra cultura specialmente occidentale la figura degli anziani, la figura degli anziani, la figura degli anziani e dei nonni, perché veramente, come ha detto Papa Francesco, loro possono garantire questo collegamento nella storia nel passo degli anni e dico di più e anche per la trasmissione della fede, sappiamo come è importante fino ad oggi la figura dei nonni. Al solito penso che dobbiamo dare il benvenuto. Oggi è la festa dei salesiani, San Giovanni Bosco, 31 di gennaio, lei è il successore di Don Bosco, quindi è una figura importante, la figura più importante per il mondo salesiano. Papa Francesco ci parla di una società che cambia, come si può essere oggi salesiani, vivere col carisma dei salesiani in questa società che cambia, che è orientata su tutt'altro oggi? Vi dirò, la realtà che ha vissuto Don Bosco 130 anni fa non è la realtà che abbiamo oggi, però è vero che i giovani c'erano prima, ci sono oggi e ci saranno nel futuro. Nel capitolo, nel capitolo generale che abbiamo celebrato un anno fa a Valdocco, lì dove ha vissuto Don Bosco, la domanda del capitolo, il tema del capitolo è stato quali salesiani per i giovani d'oggi? La domanda è di una grande attualità, vi dico, è possibile anche in questi tempi, anche in questi tempi di difficoltà, di pandemia economica, però in questa società d'oggi, è possibile pensare che un salesiano abbia qualche cosa da fare? La risposta è sì, anzitutto perché il carisma di Don Bosco è di una grande attualità, il fascino della figura di Don Bosco è grandissimo in tutto il mondo. E per noi come educatori, a volte siamo amici, a volte siamo fratelli, a volte dobbiamo essere un po' papà e un ragazzo, e come se ne salesiano oggi trova, secondo me, questa risposta. Siamo gli educatori che crediamo che dobbiamo fare e oggi essere disponibili per i ragazzi e i giovani d'oggi, con la nostra presenza, con un'accoggenza senza condizioni, con una scelta di essere sempre presenti a loro, con un desiderio di ascolto, e con una caratteristica del nostro spirito di famiglia che è questa della vicinanza, dell'accoglienza e del cercare di trovare al ragazzo, al giovane lì dove si trova, non dove noi vogliamo trovare. E questi giovani di oggi, però, vediamo che serve forse una sfida educativa da affrontare, perché le notizie di Cronaca ci parlano di questi, ragazzini che ormai stregati dalle nuove tecnologie, compiono anche dei gesti estremi, abbiamo visto i recenti fatti di Cronaca, diversi ragazzi indotti al suicidio da applicazioni digitali. Come si può riuscire a sfruttare al meglio i social network in questo caso e parlare giovani e far capire che sono degli strumenti che possono essere rischiosi per la loro vita? Sì, vedi questa domanda me l'hanno fatto parecchie volte, io penso che abbiamo una risposta che possiamo darci tutti, è questa. Oggi dire non vogliamo niente da avere con questi mezzi è come dichiararsi o fare una scelta per essere analfabeto. Lo stesso che succedeva cento anni fa quando una persona non sapeva leggere o scrivere. Penso che nessuno di noi vuole proporre per la nuova generazione di essere analfabeto. Però allo stesso tempo io sono il primo che penso che non si può benedire tutto quello che viene di questa realtà di mass media, delle reti sociali, del mondo digitale. Di fatto persone di una profonda autorevolezza mondiale come sono alcuni filosofi come Habermas o qualche sociologo di grande nome sempre hanno detto attenzione a questa realtà perché crea un pensiero che può venire controvinto. Allora, non abbiamo secondo me un altro cammino e lo dico dappertutto nel mondo salesiano. Dire di sì a questa possibilità, in quanto adesso ci troviamo facendo un'intervista di ciascuno a posto suo e possiamo comunicarci con tutto il mondo, però noi abbiamo il grande compito noi e le società, le nazioni, tutte le istituzioni educative, le università, che è questa di veramente educare con un senso molto lucido e molto critico e molto responsabile nell'uso dei mezzi di questo mondo e nel farsi presente nel mondo digitale. Secondo me questa è la grande sfida che abbiamo nel campo dell'educazione. Non si può sanare, però sì, provare questo cammino. È una sfida, è una sfida ovviamente su cui anche il Papa ci invita a riflettere. Papa Francesco, mercoledì invece, ha parlato della giornata della memoria per non dimenticare la Shoah. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Commemoriamo le vittime della Shoah e tutte le persone perseguitate e deportate dal regime nazista. Stare attenti perché queste cose possono succedere un'altra volta. incominciando le proposte ideologiche che vogliono salvare un popolo e finendo a distruggere un popolo e l'umanità. State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità. Allora, queste le parole di Papa Francesco. Ho invitato il professor X, che è responsabile dell'archivio storico della sezione per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato Vaticana, perché ha scritto un importante libro che vi facciamo anche vedere, edito da Rizzoli, Pio XII e gli ebrei. È un libro che contiene dei documenti, perché come sapete Papa Francesco ha autorizzato lo scorso anno l'apertura degli archivi su Pio XII e qui per la prima volta, lo dice anche il sottotitolo del libro, l'archivista del Vaticano ci svela cosa contengono alcuni degli archivi su Pio XII e ci racconta anche delle storie. Ecco, professor X, la prima domanda è questa. Perché ha scelto di raccontare e di scrivere questo libro facendo parlare per la prima volta le carte, raccontando praticamente delle storie di persone comuni, di gente comune? Questa domanda ci porta indietro per 60 anni, perché fu negli anni 60 che fu creata la leggenda nera, come si dice, su Pio XII e fu diffusa in tutto il mondo con facilità, perché infatti non c'erano mezzi sufficienti per contrastarla, per far vedere la realtà, come realmente fu accaduta. Ora, questa leggenda nera fu consolidata poi in teatro da Hochut e poi dopo in un film da Costa Gavras. Non dobbiamo dimenticare che questo ha avuto un influsso enorme su, diciamo, la divulgazione di questa leggenda. Ora, io ho pensato, partiamo dalle carte, facciamo, presentiamo, diciamo, i protagonisti, i personaggi nel loro contesto, nel Palazzo Apostolico, nelle ennuziature e vediamo quello che dicono, quello che pensavano, quello che scrivevano loro. E infatti emergono storie completamente diverse, presi di posizione completamente diverse e anche uno dei, diciamo, grandi sorprese durante, diciamo, il nostro lavoro di preparazione fu la presenza di una serie ebrei che risultò in un Pacelli List, cioè come Schindler's List, cioè persone che hanno chiesto aiuto da tutta Europa al Papa e che furono infatti accolti con, diciamo, un ufficio che lavorava giorni e notte per aiutarli. Ecco, e poi c'è una cosa che colpisce tanto da questa pubblicazione, emerge da alcune carte che lei ha pubblicato, che alcuni collaboratori del Papa, faccio l'esempio e cito Monsignor Armando Lombardi che è citato, che faceva parte di questo gruppo di lavoro, che si occupava proprio di questa tematica, che mostravano sentimenti antisemiti. Però questi stessi personaggi certificano, potremmo dire così, anche quella che era la posizione di Pio XII sull'argomento. Ci può dire meglio qual era questa posizione di Pio XII? Allora, voglio ricordare che questi presi di posizione, appena fa, nel suo intervista Papa Francesco ha ricordato che c'è il pericolo che questo esista ancora e può riniziare. E infatti anche in cercoli cattolici ogni tanto si trovano ancora derivati di questo sentimento o anti-giudaico o anti-semito. Ora, è proprio attraverso documenti che esprimevano questi sentimenti anti-ebraiche che ho potuto distillare o che ho fatto rivelare infatti al lettore la vera posizione di Papa Pio XII, che fu proprio l'opposto, perché queste persone in Curia non furono d'accordo con la sua linea. e la sua linea, e questa è diciamo la finale del libro, fu condensato già nel 1916 quando Eugenio Pacelli fu ministro degli affari esteri del Vaticano, fu mandato agli ebrei a New York, di American Jewish Committee, e che diceva che gli ebrei sono i nostri fratelli e il popolo ebraico deve essere trattato come tutti gli altri popoli. Ecco, queste sono le parole di Pio XII che lei trascrive anche riguardo a quella posizione quando era in segreteria di Stato, non ancora Papa ai tempi di Pio XI. Grazie Professor X, autore di Pio XII e gli ebrei, questa è la copertina del libro edito da Rizzoli. Voglio tornare da Don Angel Artime, però sempre su questo tema. Don Angel, però oggi le statistiche parlano chiaro e dicono che purtroppo ancora oggi ci sono sentimenti antisemiti. Come si deve reagire in questo caso? Certo, è vero quello che lei dice, è vero quello che ha detto Papa Francesco con l'avvertenza di dire attenti che non si dice che questo non possa ritornare, questo pericolo c'è, i popolismi, io penso che tutti vediamo nelle nazioni il grande pericolo di questo. Allora, come fare? Io non posso parlare con la visione di un grande esperto nella storia se lo faccio nel mondo che è più vicino a me che quello della formazione della gioventù e dell'educazione. Io penso che come società non abbiamo un'altra strada più che quella di credere che nell'educazione si fanno investimenti bellissimi per i prossimi 10, 20, 30 anni. Lo stesso farei una chiara avvertenza che quando socialmente si cerca di dividere la società e abbiamo esempi molto recenti, questo è un pericolo grandissimo perché non si sa dopo dove arriva quello che uno ha cominciato a fare per la divisione. Perciò, frente alla divisione e il popolismo, io penso che non abbiamo un'altra migliore strada che una decisione delle nazioni, degli stati, dei governi, delle istituzioni a favore di un'educazione dove non sia possibile, giustamente, nessuna mettere in difficoltà altre persone, dove non sia possibile la giustizia sociale, dove non sia possibile l'uguaglianza. Penso che c'è la strada più giusta e più sicura e fruttiva. Grazie a Don Angel Fernandez Artime, Rettor Maggiore di Salesiani e buona festa di Don Bosco. Grazie per essere stato con noi. Grazie Don Bosco. Grazie al Professor X, responsabile dell'archivio storico della Secretaria di Stato Vaticana. Grazie ancora e complimenti per la pubblicazione. E noi ci vediamo, come sempre, la domenica, sempre diretta su Tgcom24, alle 17, alle 20 e 35. Continuiamo con tutti gli altri programmi di Tgcom24. Grazie a tutti.